Benvenuti alla prima edizione di Miss Teenager, Miss Teenager, cioè il primo avrò, Miss Teenager. Meno male che stasera ho la presentatrice ufficiale. Un applauso! Vengo qui, Damiera! Un applauso, Damiera! Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera, buonasera! Sì, buonasera! Come stai, Damiera? Tutto bene? Bene, grazie! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Siamo qui per voi, quindi volevamo dirvi, volevamo darvi il benvenuto innanzitutto a questo evento, quindi Miss Teenager. Le ragazze hanno una fascia di età compresa dai 10 ai 20 anni. Le ragazze si, insomma, gareggeranno e sfileranno per, diciamo, e avranno quattro targhe, dalla prima alla quarta classificata. Che poi, insomma, poi lo vedremo. Intanto, volevo dirvi, prima di presentarvi le ragazze, quindi prima di conoscerle, ci saranno, ci sarà la scuola di ballo, la scuola di ballo Ariadne di Taurianova, diretta da Ilma Di Rago e Carmela Canatozzolo. Loro, le ragazze del corso avanzato, si esibiranno in una performance contemporanea di Porosmar. Dopodiché passeremo alla presentazione delle ragazze. Possiamo partire? Possiamo partire? Iniziamo la serata perché siamo poi in ritardo con... Con... con la scuola Arneide! Via, bravo! Prego! Amo sviluppare la mia coscienza per capire perché sono vivo, cos'è il mio corpo e cosa devo fare per cooperare con i disegni dell'universo. Non mi piace la gente che accumula informazioni inutili, esigerà false forme di comportamenti, impragiata da personalità importanti. Mi piace rispettare gli altri, non per via delle divizioni narcisistiche dell'universo malità, ma per come si suona politicamente la mente. Mi piace la gente, la gente, la gente non sa riposare in silenzio. Il tuo cuore impagnifica gli altri senza sosta. La cui sensualità è perennemente insoddisfatta. Il tuo corpo si indossica senza sapere apprezzare di essere vivo. Il tuo corpo si indossica senza sentire di affrezzare gli esteri. Ogni secondo di vita è un regalo sublime. Ogni secondo di vita è un regalo sublime. Mi piace invecchiare perché il tempo dissolve in superfluo e conserva l'essenziale. Non mi piace che i perretaggi infantili trasformano bugie in superestizioni. Non mi piace che ci sia un paolo che predica senza condividere la sua anima come una papessa. Non mi piace che la religione sia nelle mani di uomini che disprezza delle donne. Non collaborare, non competere. Non collaborare e non competere. Non collaborare e non competere. Vi piace scoprire come di essere con la gioia perenne. Non potremo chiamare il giorno dell'interiore. Non piace l'arte che serve solo a celebrare il suo cuore, non c'è altri motivi per morire, non c'è ciò che persone ci sono di scoprire, non piace tutto ciò che mi rompe il sorriso, non c'è ciò che mi piace, non c'è ciò che mi rompe il sorriso. E' un'altra cosa, non c'è ciò che mi rompe la mia sofferenza, non c'è ciò che mi rompe la mia coscienza. E' un'altra cosa, non c'è ciò che mi rompe la mia coscienza, non c'è ciò che mi rompe la mia coscienza.